eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi e buon venerdì colgo l'occasione ragazzi per dirvi che mentre vedrete il video io sarò in viaggio per le ferie andrò in trentino a prendere un po di fresco cercherò comunque di supportare facendo dei mini tg code giornalieri e se la connessione me lo permette anche di fare qualche mini live dalla montagna quindi mi raccomando supportate il gigione per gli aggiornamenti c'è il mio profilo instagram lo trovate appunto in descrizione quindi un bel mi piace e iscrivetevi se siete nuovi con l'occasione in descrizione troverete anche la mia collaborazione con ebba.com per comprare videogiochi nuovi per comprare videogiochi del passato se dovete comprarvi il gold o il game pass per xbox il plus di playstation crediti digitali per chi più ne ha più ne metta per comprarvi videogiochi o skin qualsiasi acquisto farete tramite il primo link in descrizione quindi salvatevelo tra i preferiti supporterete il mio canale vi ricordo anche il mio canale per le live giornaliere ieri se è stato in tantissima abbiamo fatto una live di oltre tre ore perché poi non sono tornato al lavoro ieri pomeriggio giocato con i sub grazie veramente di cuore per il supporto ma partiamo con il tg code perché come sapete mercoledì sera c'è stato il cambio di playlist ieri abbiamo giocato la modalità occupazione che è la migliore a mio avviso dato che tolgono praticamente sempre malloppo per livellare le armi però c'è stato a quanto pare un problema nella modalità ritorno coppie infatti la ravensoft era annunciato di aver rimosso la modalità ritorno coppie nella versione rotazione mappe cioè ogni 15 minuti c'è una volta shika e una volta bondel perché a quanto pare c'è un problema comunque bondel e ritorno coppie lo potrete trovare all'interno della playlist in primo piano mentre a shika island ritorno coppie può essere trovato direttamente nella playlist ritorno non hanno comunque comunicato e specificato che tipo di problema c'è stato comunque vi terrò aggiornati ieri sera come avevo già annunciato sarebbe arrivato rose 3.0 diciamo la terza versione di una delle skin veramente più criticate più contestate eccetera eccetera perché parlo di rose perché rose ha avuto una skin su warzone 1 e un'altra skin su warzone 2 verso la fine appunto di warzone 1 non era tanto warzone 2 skin che erano completamente nere non si vedevano nulla e ieri sera hanno arrivato un'altra completamente rotta che è black noir che è disponibile direttamente da ieri sera all'ore 19 il costo è 2400 call of duty point e conclude la collaborazione in termini di bundle con the boys e come sapete questa serie televisiva che ha introdotto anche i poteri abbiamo visto prima starlight poi abbiamo visto il patriota e questo è la terza skin che chiude la trilogia dei bundle della collaborazione e a tutti gli effetti non dovrebbero uscirne altra riguardo perché soltanto queste tre erano state annunciate vi terrò aggiornati invece sul termine dei poteri che ancora sono in essere però avete notato che anche con la patch di due giorni fa che vi ho riportato nel video ieri se ve lo siete perso ve lo lascia in alto a destra è stato confermato che veramente il temp v si trova con molta più difficoltà se ne trova molto di meno all'interno delle casse e direi finalmente rimaniamo un attimo sulla questione bundle poi parliamo un attimo di mv3 vi posso già dare in anteprima sempre a tema di bundle perché è un argomento molto importante in queste ore dopo che vi ho detto anche i numeri di fatturato di activision perché il dataminer task force limch ha svelato le date dei prossimi bundle partiamo con il 22 luglio whisker tango che è la skin quella dei gatti ma adesso ve la farò vedere il 24 luglio arriva una delle skin che mi chiedete da tempo da mesi parliamo di izi izunami che ha cambiato praticamente nome doveva uscire il 21 di giugno ed è stata rinviata fino al 24 di luglio e al momento questa è la data il 26 di luglio arriva soules che è la versione di ghost diciamo cristallina in versione quasi un teschio di ghiaccio poi avremo cyber yacht 3 il 28 di luglio chiude il 30 luglio the off season che è l'ultimo bundle della season 4 reloadite vi ricordo che la season 5 salvo cambiamenti inizierà il 2 di agosto che inizia esattamente di mercoledì scomparse invece il bundle del throwback audio pack 2 questo bundle che doveva introdurre anche le musiche novità musicali anche all'interno dei menu oltre alla questione dei audio di determinate armi era stato già rilasciato il primo pacchetto questo era un pacchetto ancora più corposo ma è sparito dai file di gioco quindi potrebbe arrivare adesso direttamente nella season 5 qualcosa di strano comunque è successo rimaniamo sempre a tema di bundle questo è il whisker tango di cui vi parlavo prima quindi arriveranno i gattoni all'interno del gioco quindi dopo i conili di black ops 4 dopo i topi delle world series adesso avremo anche quest'altra skin che poi non ho capito bene il topo è perché c'è la sorta di mascotte delle world series non ho capito il collegamento tra la skin del topo e il fatto del collegamento delle world series comunque secondo quanto riportato da charlie intel activision sapeva da almeno 12 mesi che tutti i contenuti di mv2 armi pacchetti operatori sarebbero stati trasferiti su motor warfare 3 ma ha deciso di aspettare e a dirlo solo ora quindi la cosa è molto strana perché innanzitutto non ha mai smentito che mv2 avrebbe avuto un ciclo di due anni quindi praticamente l'avrà deciso all'ultimo il cambiamento su mv3 dirlo adesso va sicuramente al loro vantaggio perché la gente sciopera di più perché sa che esattamente tutta questa roba non la perde né su warzone 2 integrazione mv3 né direttamente su mv3 quindi oppure hanno anche voluto vedere come andava il processo di sviluppo di mv3 prendendo una decisione a quanto pare all'ultimo la situazione sembrerebbe appunto che migliorata rispetto a quello che dicevano vari insider e quant'altro quindi il processo di sviluppo dovrebbe procedere molto bene stando alle dichiarazioni ufficiali di activision e quindi al momento era la decisione migliore di farlo adesso questo annuncio e quindi i bundle continueranno ad andare avanti ancora per mesi mesi e mesi ma voglio darvi questa notizia che è molto curiosa abbiamo parlato del fatto dell'evento l'evento che dovrebbe portare al reveal di mv3 all'interno di warzone il data manner mv intel come aveva riportato nei giorni passati aveva detto che secondo le sue informazioni si dovrebbe tutto svolgere all'osservatorio perché c'è un bunker perché ci sono a quanto dei silos e tutto dovrebbe accadere nella modalità di mz che è arrivato in queste ore a smentire questa notizia ma non tanto il luogo come osservatorio silos bunker secondo le informazioni di ralph veve che come avete visto in passato non ne ha sbagliata una né su mv2 né su warzone 2 ha smentito che mv3 sarà svelato e rivelato all'interno della modalità di mz il post è stato subito dopo cancellato ma la gente ovviamente ha fatto gli screen alle immagini perché poi comunque è una persona al momento molto accreditata sui social e quando dice una cosa la gente la prende subito infatti aveva al giusto tempo tre mi piace ed è stato tolto il post il reveal is not in dmz quindi il reveal non sarà all'interno di questa nuova modalità arrivata come sapete con warzone 2 vi terrò aggiornati vi farò sapere come sempre in anteprima come si svolgerà l'evento come si strutturerà che tipo di trailer ci sarà se dovremo fare un evento che porterà lo sblocco di un trailer se dovremo fare qualche missione per attivarlo come era successo ad esempio su cold war o su vanguard vi terrò sicuramente aggiornati voi mi raccomando con un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi vi terrò comunque compagnia in questi giorni di ferie quindi state tranquilli un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi instagram per gli aggiornamenti e noi ci vediamo ad un prossimo video